Ecco, adesso lo sta riprendendo, adesso lo sta riprendendo Vai vai Giuseppi, oh ma dite qualche cosa perché se no qui si regista, adesso lo mettiamo su Youtube, facciamo tutta la cosa No, questo va su Youtube, stasera va su Youtube Parla da sola sta polenta Prendo tutti, stasera sarete tutti su internet No, io no, non ti do l'autorizzazione Non ti ho preso, non ti ho preso Non mi dai l'autorizzazione Non ti autorizzo La liberatoria Ah, ok Senti ma, Claudio, ma c'è anche lo zoom Quella non lo so Hai sentito? Tutte le peccette? No, non posso fare niente qua Adriano, Adriano sta mettendo, Adriano il vino Non sa che te perdi eh Volete il vino? Sì, oh Sempre sta l'autorizzazione Perché è una domanda Eh, sempre sta l'autorizzazione Che hai aperto? Un boccetto di Togliani che ha portato Vincenzo Siamo andati a Sanitano in redazione Siamo da 14.05 e arriviamo a 14.05 Adesso come... Solitamente dovrebbe essere così Ho dovuto confermare anche a 15.05 Chiedono Che cosa? Chiamo Grazie Dove sta Valerio? Eccolo Eccolo qua Claudio, se ne va Guarda cosa Ciao Ciao Valerio Adesso ce lo deve dire lei 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 Lascia soltanto Lascia questa sedia libera Perché La polenta La polenta Si mangia la polenta Mamma lo vuoi? Sì, grazie Che spettacolo Io sto riprendendo la polenta Io sto riprendendo la polenta Io sto riprendendo Giuseppina Che sta Giuseppina che sta mettere il zuco sulla polenta Io mi metterò Io mi metterò Io sto riprendendo la polenta 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 Io sto riprendendo la polenta